non lo conosco strano come player di archers ehi l'ho preso eh l'ho ucciso cos'è che devo ammazzare lui mi ammaccato sta cosa ho fatto tutto da solo sei morta ma non ho toccato niente cioè devo tirare con la linea bianca e l'unino la gioia velotto e ammazza quell'altro che intanto mi attacca con le frecce cazzo aveva il mio metodo non l'avevo visto aveva il mio metodo ma bastarlo non so come si parla aia aia la testa mi piace ammazzare la gente per questo l'ho preso nelle parti intime e questo mi sta facendo ora scappo no aia stile l'ho ammazzato stile però c'è lui e così l'ho ammazzato che suè l'ho preso la gola preso in testa malissimo non vorrei essere su po' si ce l'ho fatta a due aia però mi ha fatto male al braccio ok si l'ho ammazzato ma questo qua adesso mi ammazzare aiuto aiuto no mi ha pugnato beh io sono scema anche ma scusa eh perdonami ho fatto tre prove e mi è capitato il magro non è capitato quello con lo scuolo non è capitato lui no l'ultimo l'ultimo adesso mi capiterà il mostro gigante è così il gioco e va a cazzo 9 9 10 10 10 10 10 hai vinto ammazzato No